Prosegue la protesta dei licenziati dell'ex Wagonlitz, al silenzio della politica e all'imbarazzo dei sindacati, risponde la gente comune, mobilitata al massimo e oggi sulla torre è salito il senatore dell'Italia dei Valori, Pardi. Vediamo. 75 giorni, due mesi e mezzo, qualcuno è lassù dall'8 di dicembre, qualcuno è sceso, qualcun altro è salito da poco, insomma una lotta che non finisce, nessuno vuole arrendersi nonostante lassù vivere sia davvero complicato. Piove, quindi abbiamo problemi con infiltrazioni, ci saranno problemi, speriamo di no, dei fulmini e quindi la torre potrebbe anche attirare anche queste situazioni qua, quindi speriamo che qualcuno sia sensibile. E lui, Carmine, di come si sta lassù, ne sa parecchio, c'è stato parecchio, ha vissuto le varie fasi di questa vicenda, quella dei treni notte, spariti nella notte. E se gli chiedi come si sente adesso, due mesi e mezzo dopo, ti dice che è brutto essere soli. La politica che non si muove, la CGL che addirittura definisce superata la protesta ad alta quota e chiede di abbandonare la torre. Ho fatto scuola sindacale alla Camera del Lavoro di Milano dove mi avevano detto se non hai nessun piano inventatene qualcuno, io me lo sono inventato, mi sono inventato la torre sinceramente, loro devono inventarsi qualcosa. A fronte di questi silenzi, di un abbandono che fa male, c'è la solidarietà della gente, di Milano, sabato la manifestazione dei Notav, partita da lì, sempre le persone che passano per un saluto e un grazie. I cittadini presenti regolarmente in presidio hanno costituito un comitato, danno una mano, anche economica. È nato per sostenere la lotta elevatoria attraverso una raccolta di fondi che intendiamo realizzare a livello nazionale, attraverso il blog di Binario21 Chiama Italia, lì ci sono tutte le informazioni per poter poi effettuare il bonifico. Oggi sulla torre è salito il senatore Pancio Pardi, i divi, è il terzo a scalarla dopo Borsellino e Cavalli. In Parlamento un'interrogazione, una mozione, solleverò il problema anche in una commissione dove sto io, perché io non sono nella commissione trasporti, sono ad affari costituzionali, ma penso che sia proprio uno specifico dovere della commissione affari costituzionali. Prove di riscatto di una politica sorda, cieca e muta in attesa di quel tavolo, di quella svolta, in attesa che passera, faccia il suo, come aveva promesso.